Io penso, guardate poi, devo fare sempre qualche riferimento perché dopo in settimana a volte scrivere le verità o le verità che ci convengono perché è chiaro che poi il tifoso magari non venendo al campo legge il giornale, si può creare delle aspettative ben diverse. Io penso che creare questa propaganda pro Federico può creare solo danni, innanzitutto mette in difficoltà il ragazzo stesso, Federico Amenta, perché si è detto Federico Amenta vuole andare via e non mi sembra che Federico Amenta sia andato via, ho chiesto di andare via. Si è detto che Federico Amenta ha litigato con l'allenatore e Federico Amenta non ha mai litigato con il sottoscritto. Io Federico Amenta penso di conoscere più di tutti quanti voi, più di tutti quanti, perché ci ho giocato insieme. Federico purtroppo quest'anno ha avuto un percorso diverso, quindi se si vuole capire questo, bene. Se si vuole continuare a mettere in difficoltà Federico, Stefano Ferrare, idem, perché così facendo si può mettere in difficoltà anche Stefano Ferrare, ma soprattutto si mette in difficoltà la squadra. Ma come non posso concepire i fischi ad Antonio Piccolo? A me questo dispiace. Quando io all'inizio dell'anno vi dico, mi raccomando ragazzi, dobbiamo tirare tutti sulla stessa direzione, squadra, società, stampa e pubblico, io purtroppo le cose ve le dico in anticipo. Mi auguro che questa ci serva di lezione. Il percorso di Federico Amenta purtroppo è stato, ma dico purtroppo perché so lo spessore del giocatore e quindi c'era la possibilità che lo potevo tenere in considerazione, ma martedì e mercoledì non si è allenato al 100% per un problema alla caviglia. Si è detto però di Stefano Ferrare che si è allenato a parte e non si dice di Federico Amenta che non si è allenato al 100%. E a me questo dà fastidio. La settimana scorsa, ma non è che io fino all'allenamento posso dire ragazzi guardate che Federico Amenta ha avuto un problemino, si è allenato al 50%, quindi sulla formazione io potevo anche aver pensato a far giocare a Federico Amenta. Ma io faccio delle scelte logiche, l'allenatore fa delle scelte logiche. In quel momento ho preferito far giocare uno che magari per due giorni ha fatto un lavoro differenziato, ma ha un percorso di 20 partite, 19, perché comunque 4 ne ha saltate e magari se salta due elementi non succede niente, piuttosto che mettere uno in campo che quest'anno si è allenato meno per problemi fisici, non per problemi caratteriali, non per problemi che voleva andare via, né per problemi che ha litigato con l'allenatore, io cerco sempre di fare delle scelte logiche, poi possono essere giuste o sbagliate, ma come è successo anche con la Spezia, che molto probabilmente Federico avrebbe dovuto giocare e ha avuto un problema al ginocchio, però continuiamo a mettere in dubbio quello che vi dice l'allenatore, continuiamo a mettere in dubbio magari anche quello che dice il vostro capitano. Aspettiamo che magari venga a parlare Federico, che è restio con i giornalisti, ma lo conoscete meglio di me, che Federico non gli piace parlare tanto, come non parlavano lo scorso quando stava facendo un campionato straordinario, ma ripeto, così facendo si mette in difficoltà sia Federico, sia Stefano e sia la squadra. Chi vuole il bene del lanciano? Poi, ragazzi miei, io non posso generalizzare, perché ringrazio comunque i ragazzi della Curva, perché sostengono la squadra per tutti i 90 minuti, c'è da fare delle valutazioni. A me, sinceramente, i mugugni, i cori contro e i fischi, i sabato, mi sono sembrati eccessivi, ripeto, poi magari mi sbaglio però. Allora, vi faccio vedere il percorso di Federico Amenta, mi auguro che almeno dei dati oggettivi vi possiate fidare. Fino a Natale, Federico Amenta, lo dico non per buttare fango su Federico, assolutamente, perché Federico Amenta, quando ha giocato con il Fosinone ed è stato soggetto di critiche, sono stato l'unico, penso, a difenderlo, l'unico. Come difenderò Stefano Ferraro e come difendo ogni individuo del mio gruppo, vale per tutti. Su 157 sedute di allenamento ne assaltate 49, sapete che significa 49? Un terzo, ma non un terzo di un infortunio lungo. Quindi, è chiara la situazione di Federico Amenta? Dopo che siamo rientrati da Natale, perché si è fatto la polemica anche con il Bologna, Federico Amenta con il Bologna non c'era. Federico Amenta con lo Spezia, se non avesse avuto il problema del ginocchio, molto probabilmente avrebbe giocato. Si vuole addossare la responsabilità dell'allenatore? Benissimo. Dopodiché andiamo in ritiro a Corato, si allena con continuità, perfetto, fino ad arrivare alla settimana scorsa, dove vi ho già detto quello che è successo. Molto probabilmente avrebbe tenuto in considerazione di dare un turno a Stefano e di far giocare Federico, ma ripeto, martedì e mercoledì ha avuto un problema alla caviglia. E quindi l'allenatore ha fatto una scelta logica, giusta o sbagliata, questo io non la metto in discussione, ha preferito far giocare uno che ha avuto un percorso diverso di continuità, rispetto a uno che purtroppo, ripeto, purtroppo, anche per sfortuna mia, non ha fatto il percorso dell'anno scorso. Detto questo, ci tengo a precisare, non è nessuna mia intenzione smirugne Federico, assolutamente, è solo la mia intenzione tutelare il gruppo. Il gruppo significa tutelare Federico Amenta, Stefano Ferrario, Antonio Piccolo e tutto il resto della squadra. Mi preme solo questo, perché ho in mente un obiettivo, di raggiungere il prima possibile.